Musica Ti manca, ti manca, ti manca Guarda che c'è la tua mamma adesso Dove sta? Dove sta la mamma? Che c'è a voi? Dove sta la mamma? Non mette questo Arnaldo! Allora le madonne primavera che faccia? Adesso non ci riconosciamo più Eh? Che diceva? Che diceva? Ma che c'è a madonna primavera? Te dico eh Dove? Devi entrare anche tu nella storia Allora ragazze come andiamo? Oggi non siamo tornati Agitata per stasera Stavamo le fa 4 aziende Oddio l'azienda Guarda da rimanere la tua mamma E poi vincere Vincere tutto Prima Vincere tutto Ebbene lì siamo calati No No Vincere tutto Ebbene lì siamo calati Ebbene lì siamo calati Ebbene lì è il cavallo 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 Io quando vorrei vedere questo filmato da Simone Il maialone numero 1 Ebbene lì è il cavallo E qui? E qui? E qui? E qui? E qui che facciamo? E qui la festa? Come stai? Tutto bene? Diego, Diego, Diego. Sara, guarda Diego. Il numero uno di San Pietro. Lei dove va? Saluti. Salutiamo un po' pure. Ecco. Mamma mia, ragazzi. Io ne posso... Contro i fratelli e i cortelli. C'è niente da fare. Fratelli e i cortelli. Io ne posso più, però. Quanto è bello. Do' sta Mario? Nonno. Nonno, dove sta? Ti è nato nonno? Ti è nato nonno? Ti è nato nonno? Ti è nato mio. Sai chi è il miglior mutuato di nonno? Io. Siene. Si, Emanuele. Ha conosciuto quel sonato di Emanuele? Ragazzi, salutate. Ciao. Guarda. Sì. Sì. Bellissima. Sì. 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 Emanuele non ne vuoi più. Adesso intervistiamo il TG2. Sì. Sì. No, no. Diego. Guardami qui un attimo. È attaccata? Sì. Sì. Allora intervistiamo la signorina. Sì. 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 C'è una mamma in più, eh? No, c'è anche... Ah, guarda, guarda chi ci abbiamo! La signora è in forma, la signora è in forma, il marido pure! È vero, papà è in forma smagliata! Un bel sorriso, signorina! Papà è in forma smagliata! Guarda, guarda quanti c'è i soldi! Ma guarda, 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 guarda! Saluta, saluta! E lo so, lo so! Saluta, lo so io! Allora, questo che facciamo, questo gruppo? Salutate, non salutate, niente! Ciao Houston, sei il meglio! Questo è il meglio! Ahahahah! Penso che lo faccio! Venite a bere da Bibiano! Da Bibiano! Ho presunto quello vecchio, da Bibiano! Ho presunto io! Ho presunto io! Oh, guarda, guarda! Ah, di Comunicare! Oh, guarda, guarda! Ah, ma quella che mi rischia, non la prenda! Ah, fa l'ammazza! Ah, io, ragazzi, ne posso più, eh! Se lo dico, eh! Il sabato, ciao, Manuel! Ciao! 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 Io, non ne posso più, eh! Ma ragazzi, sta dalla parte opposta, guarda, te il dico! Così stavo Stavo no, seria, seria, seria Signori, vi presentiamo uno Orvieto classico andata 2009 E adesso è andata Perché gli abbiamo dato noi Dopo il mario Siamo sfruttati Ah, ah, qui il livello Basta Manuele Fate passare l'organizzazione Fate passare l'organizzazione L'autunno hanno chiamato Oddio le hanno chiamato la palla con l'inverno Che è successo? Che è successo? Via l'oliva, l'oliva, su L'oliva, avanti l'oliva L'oliva Mi raccomando ragazzi Dobbano la cinta Abitudini Ecco Un po' ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.